Ben ritrovati ragazzi, barzellette battute freddure giorno 2 dicembre Allora, c'è uno che ha voglia di fare sesso e una voglia matta e una sera mentre in macchina carica una bella bionda Solo che non si accorge che questa bella bionda è in realtà un trans Mentre è in posizione da dietro ed è convinto di farsela davanti Gli tocca inaprepitamente il pacco e esclama oddio ti ho bucato da parte a parte Daniele, veramente brutta questa